Presentazione a Teramo della lista più Abruzzo, capitanata dall'attuale assessore al turismo alla regione Giorgio D'Ignazio, a sostegno di Giovanni Legnini, presidente. Candidati quattro donne e tre uomini, per sottolineare l'importanza della componente femminile in politica. Cosa darete in più all'Abruzzo voi? Ovviamente tanta esperienza, tanta voglia di fare, tanto coraggio anche di andare controcorrente, di non essere populisti, di non essere anti-europeisti, di essere per il dialogo, del confronto, l'esperienza. Io metto a disposizione la mia esperienza, vent'anni di esperienza. Perché questa scelta con Legnini? Assolutamente, perché riteniamo che Legnini sia garanzia di democrazia, sia garanzia di grande capacità amministrativa e governativa, serietà. Io credo veramente che oggi non si può andare dietro ai selfie e al populismo, ma bisogna pensare alla concretezza e a risolvere i problemi della nostra regione. Alla presentazione della lista terramana più Abruzzo è intervenuto anche il candidato governatore Legnini, che ha salutato i suoi sostenitori. Si tratta di una lista molto qualificata, quella formata, capeggiata da Giorgio D'Ignazio, che ringrazio per il lavoro che ha fatto in questi anni nel settore del turismo e non solo, anche quale legislatore regionale. E' una lista che si propone un obiettivo ambizioso nel contesto di una formazione larga, civica, coesa, plurale, quella che abbiamo messo su e che ambisce al governo di questa regione. A introdurre Legnini ai simpatizzanti della lista di D'Ignazio c'era l'ex senatore Paolo Tancredi, che ha sottolineato la serietà e la grande competenza del candidato presidente Legnini, conosciuto e apprezzato ai tempi della Commissione Bilancio. Due storie politiche diverse, ma oggi unite nel senso ideale di un'unica politica che si impegna per l'Abruzzo.